Barbara D'Urso ha un nuovo fidanzato, beccata con Raffaele Barbara D'Urso felice per le vie di Milano in compagnia di Raffaele. Barbara D'Urso, famosa ed amata conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, potrebbe non essere più single. La conduttrice è stata paparazzata mentre trascorreva una piacevole serata a Milano in compagnia di Raffaele, un affascinante architetto. Dalle foto è evidente che tra i due sembra esserci qualcosa di più di un semplice flair. Negli ultimi anni, la D'Urso è stata paparazzata con diversi uomini, ma non ha mai trovato lamore, infatti ad oggi è ancora single e si dedica alla carriera. . Eppure, sembra che non rimarrà single ancora per molto, le immagini ottenute in esclusiva dal settimanale Mio lo dimostrano. . Le foto saranno disponibili in edicola giovedì 23 novembre nella rivista pubblicata dall'Angelo Alecic Editore. . Barbara D'Urso rientra a casa dopo una piacevole serata, ma non è da sola. . I due, dopo essere stati a cena insieme passeggiano per le vie del centro di Milano. . Stando alle rivelazioni del settimanale, Barbara e Raffaele a fine serata si sono recati nell'appartamento che la conduttrice sta ristrutturando. . Ad ogni modo non si hanno ancora certezze sul nuovo probabile flirt di Barbara D'Urso. . Già in passato si ipotizzava un flirt tra la conduttrice e l'architetto che le stava ristrutturando casa. . . Quindi, la presenza di Raffaele a casa sua potrebbe avere significati ben lontani da un rapporto sentimentale. .